Siamo qui alla Cantori che festeggia quest'anno i suoi 40 anni di attività. Questo è un prodotto nuovo come la linea Voyage, alle mie spalle la Madia, adesso sono appoggiata su questo splendido tavolo disegnato da Castello Agravinese. Dei design che ci accompagnano ormai da qualche anno e con cui condividiamo la voglia di fare del bello. Il nuovo Let to Twist che rappresenta un po' l'evoluzione di quello che è l'ambiente twist con le poltrone e il divano. La Cantori crede molto nel mercato italiano in quanto maturo e molto competitivo e che ci offre oggi più che mai la possibilità di sperimentare e sviluppare progetti per il mercato estero. Il cliente estero vuole vivere la vera italianità selezionando aziende made in Italy e con un mercato interno consolidato. Il cliente estero vuole vivere la vera italiana. Il cliente estero vuole vivere la vera italiana. Il cliente estero vuole vivere la vera italiana.